Hola, io sono Marco Spron, ho raggiunto i 100 utenti in un mese e un giorno, anzi 103 alle 23.33 e questo è il video in cui metto il link in descrizione e in sovrappressione per il download della mappa vi faccio un piccolo disclaimer, questo download è aggiornato alla puntata numero 35 quindi se non volete spoiler e rovinarvi la sorpresa per 3 puntate non scaricatela e aspettate circa 3 giorni in cui caricherò le altre puntate volevo ringraziare tutti gli utenti che hanno visto i miei video, che mettono mi piace, che commentano, che mi danno consigli nient'altro, giocate la mappa, divertitevi, anzi se avete suggerimenti magari fate qualche screenshot e mettetemelo sul canale di facebook vi faccio un caro saluto e ci vediamo presto con nuovi video su minecraft, ciao ragazzi